Più forte di tutto e di tutti deve esserlo la Salernitana, soprattutto adesso perché in questi ultimi mesi di campionato la fortuna non sembra affatto un alleato di granata. Troppi infortuni, tanti contrattempi, l'allarme inevitabile anche per una squadra forte che dispone di un organico con tante alternative. Ma soprattutto adesso, nella fase cruciale della stagione, occorre il sostegno di tutti i giocatori perché c'è il benevento da agganciare e magari superare prima dello scontro diretto di marzo. Farlo già nella prossima giornata non sarebbe affatto male. Intanto però con la Vigor Lamezza e il forfetti di gabionette bianchi, quest'ultimo si è fatto male ieri in allenamento, è certo, ma Menechini deve fare pure i conti con le non perfette condizioni di altri. Tra questi anche Nalini e Tujan, anche se i due giocatori, salvo contrattempi, saranno comunque disponibili per il match di sabato pomeriggio. Ogni settimana dunque c'è un infortunio e questo comincia davvero a preoccupare. Ora però non bisogna piangersi addosso, ma affrontare con ottimismo e determinazione il futuro, soprattutto, le due prossime partite di campionato perché le sfide con Lamezza e Dischia potrebbero dare un segnale forte al campionato e dalle avversarie. Con sei punti in più, infatti, la Salernitana potrebbe incrementare il vantaggio sulle inseguitrici e soprattutto neutralizzare l'allungo della capolista. Per la partita con la Vigor Lamezza, Menechini sembra orientato a tornare di nuovo alla difesa 4 e schierare la Salernitana con il 4-3-3. Per Strino dovrebbe essere di nuovo titolare con Moro e Fafasuli a metà campo, scelti obbligati in difesa, anche se Franco ha avuto un inizio settimana con la febbre, mentre in avanti ci sono molte opzioni. Capitolo mercato, infine, la Salernitana continua a ricevere da società ed agenti proposte per eventuali altri acquisti. Il club ascolta e riflette se qualcosa sarà fatto accadrà soltanto nelle ultime ore. Il sogno di portare in granato un attaccante forte che al momento in B non trova spazio non è affatto tramontato. Prima però bisogna vincere la sfida con la piccola Mezzia e magari tornare di nuovo in testa alla classifica.